Vittoria Vabbè adesso Fabio ovviamente non mi chiama perché lui pensa Non mi chiama Ma mi trolla Ma sei pazzo Ma sei scemo Ma sei scemo Ma non devi nasconderti qua dentro Ma te sei fuori di melone Ma porca miseria Mamma mia Cioè sto pensando pensa Se in qualsiasi maniera per qualsiasi motivazione Io l'altra sera che eravamo fuori Avessi ceduto all'avance O sa il cazzo Al cazzo No sa oh no Ho detto o sa Vabbè vado di dire Ok Non ho detto al cazzo Ho detto Sal cazzo Sal cazzo Oh mamma però Aspetta che mi sto agitando si muove anche tutto qua Aspetta 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 Ok mi muore Ma non ho detto Natura La macchina si viene così Massa che gambe galattiche che c'hai, figlia mia. Ah, oh Dio? E lei le gambe galattiche le giacuro. Questa è mia comprata da Cyberporca. Ma dove la mettiamo tutta sta legna, rega? È legna. Quella che stai a tagliare da un'ora. È legna, è legna. Non tagliare la legna. Eh, senti? Dove che stai la mettiamo tutta legna? Ma che stai succede? Oh, oh, non ho mai ammazzato. Ma non ho mai ammazzato. Ma quasi la vede meglio, però. Sì, il tuo cu lo sto vedendo. Massa, però, figa mia, che gambe che c'hai, io. Andate in bagno, ho visto un serpente. No, 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 io veramente ne vado. Non è possibile questa. Questa è la somma di tutte le somme, di tutte le battute, di tutte queste settimane. E' normale, secondo te? No. Che quello che ti ha detto, ci sono tutti i giorni, pomeriggio, mattina, sera, notte, merenda. Merenda. Devi dirlo, sono tu merenda, guarda. La merendina. E' il mio divertimento della giornata. A parte vedere shakerare lui il culo davanti, ma va bene. Mi piace. No, va pure avanti. Ssss, va tutto bene così. Ssss, va bene così. Ma dopo andiamo a casa. Non ti metti in mano. Ssss. Non è il nome il problema. Ma che cazzo di capelli ha fatto? Prego, andiamo su. Ok, andiamo in bar. Adesso la picchio. Peghi 50. Ssss, vai avanti così, anche 90. Aiuto, aiuto. Cosa ti è uscita? Cosa ti è uscita? Aiuto. Sei fermo. T'ho tagliato il tasto, mamma. Sì, non spero. Cosa puoi dire che hai sbagliato il tasto? Che ce l'hai pure bit... Vabbè. Scendi. 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 Hai il culo rosso? Non ancora. Lascia via, lasciami via. Dove sei... a posto? Dio, ti 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 ti... Deve andare a casa? Già. Wof, Wof. Salve. A posto qua. Salve. Corri via. Piano. Allora, non dirvi di correre, cazzo. Ok, fa vedere, ma adesso Eh, fa vedere Eh, fermati però Eh, come fermati? Devi toccare, non ho capito Ma che... Ma che... È vero Ssss 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 Dimmi Stai andando, sei la madre? Sì, fino a prova contraria E che fa male Che ce la posso fare questa sera? Oddio Che un po' sei doccia stanotte Ssss La domani cammini come il dottor Atomis Il难 compute Che cos'è vicino dell'estate? No è ma di Charlie Era super Lнес іс forte Ci учили Plage di La Post Hall Mars Mol No 구